Un salto da un terrazzino, qui avrebbe battuto il capo, poi i gossip si sono susseguiti, sarebbe fuggito ad un controllo, insomma, un caso di fedifrago, però tristissimo l'epilogo. Passano i primi due e anche qui i due tempi ripescati. Quindi, curioso come mette la mano destra, Harris, dietro, decisamente dietro la linea, ma fa parte della strategia dovuta all'assetto, appena dopo la spinta, per affrontare al meglio possibile la curva, o quantomeni i primi metri. Nikaya Harris in nove, americano, Vinicius Moraes, Brasile in otto, Roger Gursky si è migliorato, il tedesco che fa una gran bella curva, dal resto anche in mattinata, questo l'ha fatto vedere. Muniai viene su, Gursky cerca di tenere per il secondo posto, torna sotto anche il britannico, 20 e 55, con questo metro e mezzo di vento da dietro, Clarence Muniai era parso più sciolto e più facile in mattinata, e comunque la finale è raggiunta, c'è il tempo per ritrovare le condizioni. Un buon registro tecnico di tutti i primi quattro, ho corso tutti i primi quattro abbastanza bene, 20 e 54, Muniai viene confermato questo tema. Sì, gli hanno regalato un centesimo, quel 20 e 55 del display è diventato 20 e 54, il secondo posto poi per... Qui lo vediamo all'uscita della curva, Gursky, è ancora terza, quarta posizione, e poi viene avanti che Tindall avevano fatto il primato in mattinata, che comunque si sono confermati attorno a quei risultati, e potrebbero anche essere loro, un 20 e 60, no, Gursky passa, intanto va in finale, Yung Yamashita, Giappone, Cameron Tindall, Gran Bretagna potrebbero essere questi due, gli atleti primati per secondo, terzo e quarto, quindi intanto Gursky che Tindall hanno fatto due su due. Sì, è vero che hanno avuto il conforto di un vento di uno più... non è me...